Nell'occasione del primo maggio anche noi su Pesera abbiamo pensato, visto che siamo città della musica e ci sono tanti gruppi musicali che suonano in città e fuori, di organizzare una giornata dalle 11 e mezza della mattina fino alle 7 e mezza, dove gruppi più o meno conosciuti, più o meno giovani, che si susseguiranno sull'anfiteatro del Parco Miralfiore e contiamo di far passare ai pesaresi e ai non pesaresi una bella giornata. Ugo Betti ha seguito la parte artistica e quindi grazie all'Auser ci ha dato una grandissima collaborazione all'organizzazione. Per quanto riguarda le richieste, l'organizzatore ufficiale è Auser, noi come comune diamo la nostra partnership e quindi ci auguriamo, insomma ripeto, che ci sia tanta gente al Parco Miralfiore nel giorno del primo maggio. La giornata, sperando che ci sia il sole, inizierà al mattino presto, arriveranno i track food che ci aglietteranno con la loro birra e il loro mangiare. Abbiamo anche selezionato proprio il bere che sarà proprio del nostro entroterra e anche il mangiare con polenta e porchetta. Il tutto gestito dai nostri amici di Cantiano che noi pesaresi continuiamo ad aiutare dopo l'alluvione. Poi ci sarà un track per rispondere alla loro carne, risponderemo noi con il nostro pesce, con il track del polpo di fulmine. Poi inizieremo con i gruppi musicali alle 11.20 con due presentatrici d'eccezione che sono Brunella Paolini ed Eleonora Rubecchi Mensitieri. Dopodiché inizieremo il concerto. Il concerto, le grandi band di Pesero che portano sempre gente con l'heavy metal dei Crotalo, con il grandissimo Joe Castellani e un blues machine. Poi ci sono gli apnea che da poco li avete visti anche sul TG1, sulle grandi testate giornalistiche, hanno presentato un nuovo CD. Poi ci sarà la band di Selci, i Babbel con la loro disco music. Ma apriremo il concerto con una band rock giovanissima perché sono loro che porteranno avanti la cultura. Siccome la musica è cultura, con noi ci saranno i Nameless che hanno dai 10 ai 14 anni. Il primo di maggio siamo carichissimi e quindi daremo energia. E anche perché soprattutto nei live ci esprimiamo, noi facciamo musica nostra, musica inedita. E quindi diamo tutto quando siamo sul palco. Siamo formati da 5 componenti, sono Alessandro Guarandelli alla voce, abbiamo Andrea Molinari alla batteria, Francesco Antonelli al basso e Luca Magrini e Marco Molinari alle chitarre. È appena uscito un singolo, un singolo nuovo che si intitola Adrenalina, che potete trovare su tutte le piattaforme. La suoneremo sicuramente, sicuramente. Ve la faremo ascoltare. Grazie.